La situazione della Lazio per il prossimo campionato abbiamo chiesto al Presidente Siliato. Silvetto Andreotti sull'utilizzazione dei calciatori in grigio verde verrà mantenuto. Quali saranno i problemi della Lazio? Innanzitutto la necessità di rafforzare la squadra all'attacco e in difesa. Abbiamo però la questione dei militari. La Lazio sarebbe particolarmente colpita da questo provvedimento. E' rilevante il fatto che i giocatori furono acquistati quando non esisteva l'ipoteca che improvvisamente si è presentata oggi. Personalmente confido nella intelligenza sportiva del Ministro Andreotti e sono certo che gli troverà una soluzione utile per tutti. Decine di calciatori sono attualmente in grigio verde e fra i più noti Franzini e Rozzoni della Lazio. Da Costa e Manfredini della Roma, Campana del Bologna, Marchesi dell'Atalanta. Bene ha fatto la Roma a comprare Schiaffino. A 35 anni è costato 30 milioni, circa 850 mila lire per ogni anno di età. Consigliamo a tutte le società l'acquisto di questo arzillo vecchietto ottantenne. E' valutato secondo il costo di Schiaffino circa 68 milioni. Non è caro ed è militesente. E' valutato secondo il costo di Schiaffino.